ciao a tutti ragazzi volevo ringraziarvi diciamo di questo premio che è il webshow award dicevo volevo ringraziarvi perché insomma questa è una grande occasione io sono nato sul web sviluppato sul web ho iniziato la mia carriera quindi grazie a tutto il pubblico di facebook che cazzo sei? muori muori ancora con sti zombie ma che cazzo è? basta con sti zombie no? pure vecchio tornatene alla morte ciao questo lo prendo io però